6-7 ottobre, congresso della reumatologia pugliese, si terrà a Lecce. Giornata ed evento importante sia dal punto di vista celebrativo, sarà il trentesimo congresso della nostra società, e soprattutto dal punto di vista dei topic. Tratteremo essenzialmente le comorbidità in corso di malattia reumatologica. Emerge sempre di più l'importanza delle comorbidità in corso delle nostre patologie, perché impattano negativamente sulla qualità di vita dei nostri pazienti. Ci confronteremo con gli specialisti, cardiologi e pneumologi, focalizzeremo sulla rilevanza e sul trattamento delle malattie cardiovascolari e delle malattie pneumologiche e condivideremo le migliori strategie per il trattamento delle comorbidità nei pazienti con malattie reumatologiche. Di questo parleremo a Lecce il 6 e 7 ottobre. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!